Siamo pronti per incominciare una nuova giornata assieme, dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Tanti temi anche quest'oggi nel centro del dibattito pubblico, a partire dagli sgomberi decisi a Roma, vedremo la stretta poi decisa dal Ministro Minniti, ma a livello locale si ritorna a parlare di migranti con polemiche che si susseguono tra i vari capoluoghi di provincia della Regione. Prima di tutto però andiamo a dare uno sguardo al meteo, le previsioni di oggi dall'Osmer Arpa della Friuli Venezia Giulia, una giornata che si preannuncia con cielo sereno, poco nuvoloso, con venti a regime di brezza e caldo affoso. Sui monti, dal pomeriggio, sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità e dalla sera possibile qualche temporale. Le temperature in pianura alle minime varieranno dai 16 ai 19 gradi, le massime dai 29 ai 32. Sulla costa le minime andranno dai 22 ai 24 gradi, le massime dai 27 ai 30. La temperatura media ai 1000 metri sarà di 20 ai 2000 di 16. Oggi sarà anche una nuova giornata intensa per quanto riguarda il traffico, segnalato il bollino nero, attenzione dunque per chi si mette in marcia e diamo anche uno sguardo alla situazione attuale sulla rete autostradale della nostra regione, segnalati al momento un incidente in uscita a Padova Ovest sull'autostrada A4 tra Brescia e Padova appunto e naturalmente traffico già sostenuto nel tratto tra Palmanova e Latisana con naturalmente i consueti restringimenti per i lavori della terza corsia, rallentamenti e code già anche alla barriera di Ugovizza in ingresso in Italia. Questa dunque è la situazione del traffico, ora andiamo sulle prime pagine dei quotidiani partendo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre appunto sugli sgomberi, stretta sulle regole. Raggi a Roma ho fatto il nostro dovere, Di Maio la difende, ma Fico boccia le cariche. Direttiva della Viminale ai prefetti deve esserci l'accoglienza alternativa. I 5 stelle divisi. Con una direttiva appunto ai prefetti il Viminale rimarcherà le regole esistenti sugli sgomberi con la forza pubblica, questo dopo le polemiche per gli scontri a Roma che hanno diviso i 5 stelle. La vignetta di Giannelli a centro pagina dice Di Maio che la Raggi deve occuparsi dei romani, ma i romani sperano di no e continua appunto a scherzare sul rapporto del sindaco di Roma con i suoi cittadini. Per quanto riguarda le altre notizie in prima pagina nel Corriere della Sera si parla di economia, draghi, crescita e mercati aperti per evitare il protezionismo. Questa la voce del Presidente della Banca Centrale Europea. E poi ancora assalti e minacce con presunti terroristi Bruxelles e Londra, agenti aggrediti e terrorismo in Belgio, attentatore ucciso. Grande paura in tutta Europa ancora dopo i fatti di Barcellona. A centro pagina invece una storia che arriva dagli Stati Uniti. La milionaria alla lotteria che non tiene il segreto, vedete la donna che ha vinto appunto l'assegno da 758 mila dollari, milioni di dollari e si licenza e lo racconta a tutti la sua storia. Poi a taglio basso sul Corriere scuola e vaccini, 600 mila non in regola, i dati del Ministero della Salute in vista dell'inizio dell'anno, moduli e autocertificazione, i consigli appunto per i genitori. Lasciamo la prima pagina del Corriere, andiamo su quella di Repubblica, anche in questo caso i migranti in primo piano. Minniti sospende gli sgomberi, dopo la guerriglia di Roma, l'agente della frase shock, lo stesso che fece caricare gli operai Thyssen, Movimento 5 Stelle, spaccati sull'intervento della polizia al sindaco PD del Reattino. Non vogliamo quei profughi, c'è anche l'editoriale di Ezio Mauro, se la povertà è una colpa. Centropagina Repubblica propone la vignetta di Altan, ho detto di spezzargli un braccio, mica il cranio, si appunto ricorda la dichiarazione di uno dei poliziotti. E poi ancora l'economia, Draghi e Yellen sfidano Trump, protezionismo, grave rischio, la ripresa si sta rafforzando, vola l'euro. Ancora delle notizie a fondo pagina di Repubblica, tir in fuga dai pedaggi invadono i paesini dopo gli aumenti autostradali, una situazione che si verifica spesso anche nel nostro Friuli. E poi ancora il trucco di Macron, 26 mila euro in bellezza, la vanità del potere. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo sulla stampa di Torino. Una doppia foto sulla stampa, la prima riguarda appunto il clima, via il ghiaccio, la petroliera passa e poi vedete appunto questa nave cisterna russa che ha attraversato per la prima volta le acque dell'Artico e ancora il Veneto che dichiara guerra ai lupi, stop del governatore Zaia al ripopolamento. I lupi a valle per il caldo, scrive la stampa. E poi ancora l'economia di spalla Draghi e Yellen, mercati più liberi per la crescita, alleanza BCE e Fed contro Trump, non cambi le regole della finanza. Questa è dunque la prima pagina della stampa di Torino, ci spostiamo su Il Giornale. Il Giornale ritorna sugli scontri e le polemiche sulle forze dell'ordine, i veri nemici della polizia, sinistra e bonisti contro gli agenti, Gabrielli fa e distingo. Lì difendiamo noi, Caos Roma, più di 100 edifici occupati e 6.000 inquilini illegali, giù le mani dalle forze dell'ordine. A centro pagina c'è Sgarbi, vi racconto il mio manifesto per un rinascimento italiano, il libro di Sgarbi e Tremonti, le riflessioni del critico d'arte che ricordiamo domani sarà proprio a Venzone in Friuli. Per quanto riguarda poi le altre notizie, in prima sul Giornale, gli sgomberi nella capitale 5 Stelle si spaccano e ancora l'allarme terrorismo, coltelli in Belgio, spade a Londra, torna il terrore in Europa. Dal Giornale ci trasferiamo su Libero e anche Libero parla degli sgomberi. La vera violenza è occupare le case degli altri, attaccare le forze dell'ordine che hanno mandato via i migranti abusivi significa schierarsi con l'illegalità e incentivare i nuovi reati. La mappa città per città degli edifici da liberare subito. E poi a centro pagina la foto di Gabrielli, tradimento il titolo di questa notizia con l'editoriale di Vittorio Feltri, ma Gabrielli comanda la polizia e i boy scout, il capo non difende a dovere i suoi agenti. Dalla prima pagina di Libero, passiamo sul fatto quotidiano. In questo caso l'apertura riguarda un altro argomento, i vitalizi, il PD frega. Renzi scrive il fatto, dicono no, anche le bandiere Dem, Manconi e Capacchione è incostituzionale. Quasi morta la legge voluta dal segretario e dall'affido Ricchetti. Sempre per quanto riguarda la prima pagina del fatto, due notizie di taglio alto, si riparla della sisma ischia, anche il sindaco ha processo per gli abusi, forse pure le caserme sono fuori legge, mentre per quanto riguarda gli sgomberi di Roma, blitz senza casa e 40 milioni mai spesi. Ancora dalla prima del fatto quotidiano, vi proponiamo la nuova aviaria, abbattuti 2 milioni e mezzo di polli, l'epidemia Lombardia e Veneto, le regioni in crisi. Dalla fatto quotidiano andiamo su il manifesto, in questo caso sono i 5 stelle a guadagnarsi la fotonotizia d'apertura, Black Blog titola il manifesto, Raggi si deve occupare prima di tutto dei romani dopo le violente cariche contro i rifugiati, Di Maio, candidato premier dei 5 stelle, difende la polizia e parla come Salvini, ma Fico si smarca, questo Stato non mi rappresenta, la sindaca attacca regione e prefettura. L'ultima prima pagina dei quotidiani nazionali di oggi, quella della sole 24 ore, temi economici naturalmente in primo piano, boccia, servono 10 miliardi per 900 mila posti in 2-3 anni, è timida la proposta del governo sui giovani, il presidente di Confindustria, siamo favorevolissimi ad una norma anti-licenziamenti. Centro pagina il sole parla di Samsung e lo scandalo che blocca il riassetto del colosso dell'elettronica, leader del gruppo sudcoreano, condannato a 5 anni. Dalle prime pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo a quelle dei quotidiani locali, a partire dal Messaggero Veneto dove, come vi anticipavamo, l'apertura è dedicata al tema dei profughi, scontro sull'accoglienza. Forza Italia, la regione non riesce a gestire il problema, torrenti, critica i comuni. Per quanto riguarda la notizia a centropagina, la foto dedicata al tema dei vaccini l'abbiamo ritrovato anche sui quotidiani nazionali, operazione vaccini per oltre 35 mila scolari. Per gli alunni delle scuole friulane la campanella suonerà l'11 settembre, ma le scadenze imposte dal decreto vaccini scatteranno prima. Per poter accedere ai nidi, alle scuole dell'infanzia, le famiglie dovranno far pervenire agli istituti entro il 10 settembre la documentazione vaccinale. Sempre dalla prima pagina del Messaggero Veneto andiamo a vedere anche le notizie di cronaca. Il PD a fretta e spinge per candidare Martinez. Si parla dunque di politica e delle comunali del prossimo anno a Udine. E poi ancora a Pavia di Udine è trovata nei campi la moto del campione che era stata rubata nei giorni scorsi e quindi a porpetto la furia dei vandali contro la tomba di un bambino. Per quanto riguarda le altre notizie di politica, dalla prima del Messaggero poi andremo ad approfondire casa prestiti più facili per chi acquista o ristruttura. Mentre per quanto riguarda la politica regionale si parla degli autonomisti, il movimento Friuli si conta e chiude la porta a Cecotti. Di taglio alto invece i richiami agli esteri, paura a Bruxelles attacca i militari accoltellati e ucciso, mentre per l'economia commessa in Egitto il canale di Suez si affida a Danieli. Allora andiamo ad approfondire nelle pagine interne del Messaggero Veneto queste notizie che abbiamo visto assieme a partire dalla questione dei profughi. Duel, duello Forza Italia PD su comuni e ospitalità. Riccardi, cabina di regia con sindaci e associazioni che si occupano di migranti, l'assessore Torrenti, il coordinamento con l'Anci non ha prodotto risultati. Ci sono anche le tabelle che riepilogano la situazione dei richiedenti asilo ospitati nei vari comuni della Friuli Venezia Giulia, suddivisi per province. Vedete qua il riepilogo con le presenze totali, sono 4.875 e l'entità maggiore in provincia di Unione con 1.694. A proposito di profughi e richiedenti asilo andiamo a vedere il servizio che ci riassume anche gli ultimi sviluppi per quanto riguarda i trasferimenti tra Gorizia e Udine e il servizio di Francesca Santora. Gorizia alleggerita sul fronte accoglienza, Udine appesantita. L'ex caserma Cavarzerani ospita 50 richiedenti asilo in più, trasferiti non da altre regioni italiane, bensì da Gorizia. Una decisione presa dalle due prefetture per sgravare la posizione del capoluogo in Zondino, dove nonostante tutti i divieti e gli annunci di controlli da parte della forestale proseguono i bivacchi, in quanto le strutture di accoglienza sono al collasso. L'ex caserma Udinese scesa a quota 300 unità e quindi parsa la soluzione più facilmente percorribile oltre che la più rapida. Tutt'altro che secondario è infatti il fattore temporale, considerando che all'inizio di questa settimana a Gorizia è arrivata una cinquantina di migranti nell'arco di una sola giornata. Del trasferimento, peraltro, non è stato informato il primo cittadino udinese Onsel, che comunque nei giorni scorsi ha rilevato come la città non sia più un'emergenza per l'accoglienza e per la gestione delle domande d'asilo. I sindaci dei capoluoghi intanto si preparano al vertice di martedì 29 a Gorizia e soprattutto l'incontro con il ministro dell'interno, mercoledì 5. I primi cittadini sono stati chiamati a raccolta a Trieste, dal momento che almeno per ora non è previsto che Minniti faccia tappa in altre città. E ritornando sulle pagine del messaggero Veneto, vedete la situazione suddivisa per province, per quanto riguarda Udine, presenze in calo nelle caserme, sono in 400, arrivati alla Cavarzerane appunto i 50 stranieri spostati da Lisontino. C'è poi anche il focus su Pordenone, attese i trasferimenti a breve, intanto il Comune si affida a Stewart e vigilanti privati. Andiamo a scorrere le pagine interne del messaggero Veneto, ci occupiamo di una questione che sta creando diverse polemiche in questi giorni anche a livello nazionale, la tutela dei dipendenti transi, il caso diventa nazionale appunto. Roccella attacca la Seracchiani, pensi al sociale lavoro, Federica è pura follia, la Presidente insiste. Per noi la priorità è compiere passi avanti sul fronte dei diritti. C'è anche il retroscena che spiega come l'alias sia nato dopo la causa di un impiegato e da lì si è sviluppata appunto la decisione della regione di normare queste situazioni. C'è anche lo sviluppo dell'economia al porto di Trieste in particolare, che adesso guarda il Giappone, accordo con lo scalo di Shimizu, cioè la visita in questi giorni proprio di una delegazione giapponese in Friuli. L'avevamo visto in prima pagina, notizie importanti per le famiglie, case nuove e sfitte, prestiti più facili e bonus in montagna. L'aggiunta modifica le regole dei contributi a cittadini ed imprese. L'assessore Santoro facilitiamo gli acquisti per far ripartire il mercato. Dalle notizie positive per le famiglie, sempre dalle pagine interne del messaggero, la politica regionale con il movimento Friuli che si conta e chiude la porta a Cecotti. Il gruppo non vuole alleanze né con i partiti né con le altre sigle autonomiste. De Agostini, leader, sarebbe un errore provare a ricucire con l'ex sindaco di Udine. C'è anche il possibile obiettivo spiegato da De Agostini entro la fine di novembre, capiremo se potremo candidarci nel 2018 puntando a convincere uno zoccolo duro di 14 mila elettori. L'economia, notizie positive per la Danieli dall'Egitto agli Stati Uniti, fa il pieno di nuove commesse. Siglata all'intesa con la società Canale di Suez per un impianto, la SPA fornirà GRU in Germania e la Minatoi in Vietnam. E poi si ricorda anche il 27 ottobre l'assemblea di bilancio del gruppo Danieli. Andiamo nelle pagine interne per parlare di Udine. A scuola vado a piedi. Riparte il mille pedibus, nuovi tragitti in tutto, sono 20 con la partecipazione di oltre 200 alunni. L'iniziativa coinvolgerà 8 scuole elementari. L'assessore comunale Basana, siamo molto orgogliosi. Vedete le foto dei gruppi con le guide che appunto aiutano i ragazzi ad attraversare la città. Si parla anche di Corriere, le tariffe restano invariate. La SAF è partita alla campagna abbonamenti, riservata agli studenti. Miniguida sul sito della SPA. Poi ritornando sempre sulle notizie appunto del mille pedibus, vedete i vari percorsi spiegati per le scuole della città. C'è anche una polemica. Togliete quei posti e vigili servono alla 4 novembre. Gli 80 metri di via Marco Volpe riservati alla Polizia Municipale Franco Rella Rossa contesta la scelta del Comune. Non c'è alcuna esigenza. Continuiamo a scorrere le pagine interne del messaggero. Sempre per quanto riguarda Udine Città c'è la notizia sui rifiuti da pagare. Un conto da 5,6 milioni per 51 mila udinesi. Il Comune ha inviato le lettere per le ultime due rate. L'assessore del Torre tariffe tra le più basse d'Italia. Sempre dal messaggero la politica udinese. Il PD adesso affretta e spinge su Martinez. Delegazione dalla Seracchiano in favore dell'ex vice sindaco. C'è chi chiede al consigliere di accelerare. Dopo Friuli doc. Venanzi disponibile a fare un passo indietro per favorire l'unità in vista di primavera. Bisogna gestire il dopo Onsel che potrebbe dimettersi in anticipo per correre alla regione. Queste dunque le ultime sulla politica cittadina. Andiamo a parlare invece di una nuova passione che, come racconta il messaggero Veneto, sta trainando molti friulani. Quella della corsa. Sport e benessere. I friulani si scoprono runner. Si moltiplicano le iniziative dedicate alla corsa. Ci sono anche corsi ad hoc. Vedete la testimonianza degli sportivi. Gambe che mulinano e testa libera la corsa. Serve anche a meditare. C'è questa doppia pagina del messaggero che racconta anche la storia di Silvia che punta a Santiago. Malata di sclerosi multipla partirà a settembre per la Spagna. Andiamo avanti dalle pregine interne del messaggero. Si parla di sanità. Operazione impossibile paziente arriva dalla Grecia. Una storia che racconta di un padovano di 80 anni in condizioni disperate che è stato trasportato in aereo a Udine. Scongiurata la rottura di un aneurisma nell'intervento. Una pompa ha aiutato il cuore. Ancora dalle pagine dedicate a Udine città. Si parla dell'ex Upim. È un cantiere che prenderà il via dopo Friuli Doc. Il comune nomina la nuova commissione di Lizza. Gli ordini professionali. Usiamo la conferenza dei servizi. Si parla appunto del parere anche della commissione per i progetti delle opere pubbliche che hanno impatto sulla città come Le Rotonde e l'ex Macello. Lasciamo le pagine del messaggero Veneto. Andiamo sul gazzettino. Innanzitutto vediamo la pagina d'apertura. Ricorda i funerali a Bassano del giovane ucciso a Barcellona. E poi lo scandalo nel palazzo dei migranti. 10 euro a notte per dormire. Parla dunque della capitale. E ancora le notizie che riguardano il Pordenonese. Arrivano le nuove telecamere nella strada delle Risse in centro. Dalle pagine interne andiamo sugli argomenti a carattere regionale. E si parla del congresso del PD che è stato stoppato alla riunione della direzione Mancherano, Seracchiano e Rosato. Ci sarà solo Bolzonello. No, deciso della segretaria Grimm all'anticipazione chiesta da Pordenone e Gorizia. E poi c'è anche Travanut, l'esponente di MDP, che chiede, insomma, bisogna andare alle primarie per la scelta del nuovo candidato alla presidenza della regione. La coalizione non ha un candidato condiviso, dice Travanut dalle pagine del Gazzettino. Per quanto riguarda le notizie della Giunta, 700 mila euro per le imprese creative. Ieri c'è stata una delle delibere della Giunta regionale. Poi continuando all'interno si parla di vaccini, bimbi richiamati a fine mese. Un primo ciclo su 3.000 piccoli che si è chiuso ad inizio agosto, campagna conclusa per dicembre. Allora siamo pronti anche per proporvi l'intervista al direttore generale dell'azienda numero 3 che spiega come sta andando la campagna di rivacinazioni nel Codro Ipese dopo il caso di Emanuela Petrillo. Siamo riusciti a mantenere il programma, pure complicato, ambizioso, che ci avevamo dati all'inizio. Quindi sostanzialmente riuscire a fare in sei mesi quello che era stato il rifare in sei mesi quello che era stato il lavoro dei sei anni tra il 2009 e il 2015. È stato sicuramente impegnativo, ma comunque diciamo che entro l'inizio di agosto siamo riusciti a far arrivare il contatto a tutti. Dapprima abbiamo cercato di telefonare a tutti quanti i cittadini, poi ce n'erano molti che avevano cambiato il numero di telefono, che non rispondevano e quindi abbiamo mandato una lettera a casa a tutti quelli che non avevamo riuscito a contattare telefonicamente. Il primo passaggio in distretto è stato completato da parte di tutti quelli che hanno aderito all'offerta all'inizio di agosto. Adesso ci sono ancora tante vaccinazioni da fare, ma sono i richiami successivi. Il secondo, il terzo, che hanno anche dei tempi tecnici ovviamente devono essere dilazionati. Quindi completeremo il percorso entro fine anno, inizio del 2018. A livello giudiziario ci sono novità? Sapete che già notizia sui media è la riunificazione dell'indagine penale. Noi stiamo fornendo il supporto, abbiamo fatto i prelievi che erano necessari per quel canale e sta continuando in quel modo il percorso da parte dell'autorità giudiziaria. Ritorniamo sulle pagine della Gazzettino. Per quanto riguarda Udine Città si racconta dei premi ai dirigenti. Quasi 150 mila euro le retribuzioni di risultato 2016 per i funzionari del Comune e per i vertici dell'Uti Friuli Centrale. I quadri vanno in totale 58 mila euro la lista degli emolumenti corrisposti dal municipio. E poi sempre dal Gazzettino andiamo a vedere Udine capitale delle unioni gay. Le nozze omosessuali in comune sono state 17 dal 2016. Da gennaio ed agosto se ne contano 9 di cui 5 fra 2 donne. Tutela dei dipendenti trans. Onsel dopo la scelta della regione ci ragioneremo anche noi. Poi andiamo nella Pordenonese con la pagina del Gazzettino dedicata alla città della destra a tagliamento. Si parla di sicurezza. Le telecamere nella strada delle risse. Il Comune ha installato la videosorveglianza in via Bertossi nel Parco dei Salici. La zona è ad alto rischio. Sono stati potenziati anche i controlli della municipale. Sempre per quanto riguarda il Pordenonese invece ritorniamo sulle pagine del messaggero Veneto di Pordenone. Andiamo ad affrontare la prima pagina della Dorso Cittadino che si occupa dei locali storici della città. Vacanze finite. Si accende la sfida tra bar. Vedete il Perla potrebbe riaprire. L'Exwood in attesa. Cristallo e Nifty hanno cambiato pelle. Pausa pranzo a terreno di conquista tra i bar della città. Questo dunque la notizia d'apertura del messaggero di Pordenone. Poi anche qui si parla di asilo. Più sconti meno domande. Piene le strutture comunali ma la richiesta è in calo. In dieci anni a Pordenone i nati sono calati del 20 per cento. Mentre per quanto riguarda le vaccinazioni provincia sotto la media la comunità scientifica internazionale chiede il 95 per cento. La destra a tagliamento che pure ha il primato in Fru di Venezia Giulia non arriva alla soglia. Andiamo a dare uno sguardo anche alle pagine di Gorizia e Monfalcone del messaggero Veneto. Accoglienza. Arrivi boom a Gorizia piccola Lampedusa. Dato senza precedenti 250 profughi in 20 giorni. Gulletta. Chiederemo a Roma lo status di prefettura di sbarco. Poi come ricordava la nostra Francesca Santoro nel servizio da Miniti non in ordine sparso. L'auspicio dei consiglieri d'opposizione Portelli serve unità di intenti. E poi una questione che riguarda il San Giuseppe. Servizio doce per l'inverno. Il progetto della Caritas in vista dei mesi più freddi. Don Zuttion. Pensiamo a una struttura di emergenza. Quanto riguarda invece le notizie che interessano Monfalcone. L'apertura parla di un'incursione dopo una festa. Il ride dei ladri vandali la notte in piscina. L'allarme è lanciato alle 5.50 dal custode. Colpito anche il chiosco del bar. Videoregistratori della sorveglianza gettati in acqua. Mentre per quanto riguarda lo stesso impianto natatore una gestione rinata ma pesano le bollette. il direttore Bonaldo. Siamo in piedi grazie ai contributi del comune. Qui luce e acqua molto più care. Queste dunque le tematiche al centro dell'attenzione nel Monfalconese. Andiamo a dare uno sguardo anche al piccolo. Al piccolo di Trieste che titola in apertura no alle bici. In centro parte la rivolta. Buffera Trieste sulla mozione leghista. L'assessore troppi maleducati. Fatto notizia centrale invece racconta di grado e della retata contro gli ombrelloni. Segna posto in spiaggia. Più di 200 ombrelloni. Lettini e sdraio sono stati sequestrati nell'isola d'oro. Un blitz in piena regola scattato al tramonto nell'area non a pagamento della spiaggia principale dove tanti troppi bagnanti occupano abusivamente il litorale con le proprie attrezzature piantate in modo permanente. Dalle pagine interne del piccolo vi proponiamo altri due argomenti. Uno legato all'università, le università della regione, prof e ricercatori in sciopero contro il blocco degli stipendi, esami autunnali a rischio caos. Sissa e Atenei di Trieste Udine tra le 79, realtà italiana coinvolte dalla protesta. Un centinaio, i docenti del Friuli Venezia Giulia, pronti a far assaltare gli appelli. Dunque preoccupazione tra gli studenti per gli esami e poi appunto sono gli stessi che si sfogano a pagare. Siamo noi lo sfogo di scritti e laureandi, critiche allo stop a Singhiozzo. Per quanto riguarda invece la politica regionale, il piccolo propone un quadro su che cosa faranno gli assessori della giunta a Serracchiani. Chi ci riprova e chi lascia? I nuovi assessori al Bivi, i componenti dell'esecutivo verso la scelta del proprio futuro. La Telesca ha già deciso e tornerà al lavoro, ma molti ancora non scoprono le carte. Vedete appunto la panoramica degli assessori della giunta a Serracchiani con Maria Grazia Santoro per esempio che si dice disponibile a un progetto futuro. Saravito resta a disposizione del partito, Panontina non ancora scelto, Torrenti non pare guardare a un altro mandato, poi naturalmente Sciaurli e Bolzonello che si contenderanno la guida in caso di addio alla regione verso Roma della Serracchiani. Ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa dedicata alla cronaca, ma rimanete con noi perché tra poco ci ritroviamo per parlare di sport con tutte le notizie dell'Udinese e non solo. A tra poco!